E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo finalmente dopo tantissimo tempo Su Minecraftita Quinta stagione Indovinati chi c'è a rompere le scatole come vedete a destra Come al solito il grande assistente bisunto Ok questa deve essere una, proprio una mappa gigantesca piena di costruzioni automatizzate a 100% e tutta di... Si, a parte quello ma sarà fatta di un unico materiale sta serie E non è un materiale comune che si trova, si va bene ok, è cobblestone Sentite il sottofondo, è ferro signori miei, oggi ci andiamo, cioè oggi inizia una nuova era su Minecraft Andiamo a costruire il mondo totalmente in ferro L'età del copper L'età del... no, copper perché copper L'età del ferro Siamo spawnati in un villaggio non a caso perché ci serviranno una farm di villager allucinante Perché dovremmo fare una farm di ferro ancora più allucinante Stiamo parlando dell'Iron Titan Oh, molto molto buono Ci ha passato il seed comunque Si, molto molto carino il loot Diamante, no no no, non mi hai dato niente Vai La cosa più bella ti ho dato Eh, si ma con uno non mi faccio neanche niente La pala? La pala? No no, l'idea ci faccio giù i box Si, ti prego Ok Vai Bene, ragazzuoli si sta facendo notte Il che è la cosa che io avrei meno sperato, diciamo Perché... no, è bruttissimo, non si sa quello che ho detto Però è terrificante il fatto che si stia facendo notte Bis, dobbiamo mettere a ripare i villager Arriva da prendere un po' di roba Qua c'è una caverna, prendo un po' di cobblestone E tu mi prendi del legno? Intanto prendo della cobblestone Non c'è niente No, non ci sono l'alberi Ok, ho preso un po' di... Ok, c'è quello della palude Sì, 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 sì Ah, buono, la palude è buona Ci servono gli slime block Gli slime ball Ok E voglio anche... Non lo so, beh, gli slime ball servono sempre Pistone a PC così servono Scusa, non danno più gli stick Ah, no, 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 ok, me li danno Allora, qua dentro è buio Bis è buio, cazzo È buio, è buio È buio, è buio, è buio Ho un'idea Vai Facciamo esplodere il creeper super caricato sotto un fulmine Così almeno si risette al giorno No, ok Non penso sia una grande trovata No Sto prendendo danno un cavallo Ok Mi serve... Mi servono delle torce Mi servono delle torce Le ho trovate Mi sta tancando Chi ti sta tancando? Un ragno Mi socorro, rimettiti al riparo Ok, ho preso un paio di torce Vado a metterle dentro le case dei villager E li vado a chiudere dentro Ed è perché odio questa serie Ecco qua Ho un cavallo Ho sentito un cavallo morire No Ok, questa l'ho chiusa Vediamo questa Qui c'è un altro villager Mettiamo una torcina e chiudi C'è un cavallo È morto Bim Perfetto Ripose in pace Si stanno nascondendo Spero se ne vadano il prima possibile Andate e vattene via tutto Ok, comunque tre villager ce li abbiamo al sicuro Quindi è buono Ah, qui ce ne sono un altro paio Devo mettere un blocco Dimmi Tirati Non ti, ti vedo Oh, ciao bis Tu hai piccolo Io no, mi dispiace Ah, ok Grazie No, così è entrato Ah, è entrato un altro Molto bene Automatizzato Ok, ottimo, ottimo, ottimo Bene, bene Abbiamo salvato i villager che dovevamo Adesso l'idea è che Clay, clay, clay Clay, sì, sì Ho visto la clay Ho visto la clay Scala, 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 scala Allora l'idea è che Dobbiamo La farm di cibo ce l'abbiamo Perché ci sono robe varie Ora io me ne vado in miniera A prendere più roba possibile Poi Abbiamo un po' di diamanti Tutti ho Ti ho Allora, facciamo una cosa Tu occupati del legno Parte legno Arriva un enderman Sì Aia Oddio Mi hanno peccato Uno scherzo Via 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 Io mi butto in miniera Qualsiasi cosa accada Eh, cosa faccio? C'è un enderman che mi sta picchiando Eh, nasconditi Scappa Fugi Sono nel pozzo Non so cosa fare Nel pozzo sei Io sto prendendo torce Sto prendendo carbone Nel senso Per fare torce Eh, dovrei filmare In questo momento Sono nel pozzo Non posso più uscire E c'è un enderman Che mi sta attaccando Cioè cerca di attaccarmi Il schieno non è male Lo zombie Lo zombie Lo zombie Lo zombie Lo zombie Lo zombie 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 Devo continuare a spammare Altrimenti lui non sa lontana E mi cade Grazie free Grazie Grazie Che intervento Stealth Mamma mia Bene Bisunta passava Tutta la notte Sott'acqua Io sto picchiando L'enderman Il giorno Ho ucciso l'enderman E mi ha dato il grass block Io senza Sigtac Senza Sigtac Eccolo qua Ma li droppano Gli enderman Io devo Liberare sti villager Mi danno troppo fastidio Come O gli rompo le porte O li libero Facciamo una farm Di grass block Facciamo una farm Di enderman E la tetra No Eh no Non la puoi fare però Perché Perché come funziona Li devono prima prendere I grass block Ma dalla terra Si dice Si dalla terra Forse si riesce Adesso Ci andiamo a fare Dai andiamo in miniera A prendere un sacco di materiali No Oh cazzo Cazzo Mezzo cuore Mezzo cuore Oggi Io vi giuro Mezzo cuore È iniziata bene Sta serie Per fortuna esiste il comando Del tab Così almeno vediamo Quanti cuori All'avversario Altrimenti sarei già impazzito Mezzo cuore Cazzo Oddio Me ne devo mangiare Più roba possibile Mi devi raccontare Cosa è successo Che cosa può essere esploso Mr. Creeper Exactly Mi ero sceso in miniera 30 secondi E esplode il Creeper Manchi più 30 secondi Sinceramente Perché io sono già Alla giungla Ok Beh forse Ma poco di più Poco di più Guarda Ok Ho ripreso tutta la vita Ho fatto le sugar cane ragazzi Buono molto buono Anche meloni Ah è tanta roba Guarda Sono contento Perfetto Abbiamo Ho ripreso tutta la vita Adesso me ne ritorno Finalmente giù in caverna Bis sta prendendo legno Io mi vado a prendere 5 cuori E mezzo Oh c'è uno scheletro Che palle ragazzi Però qui eh Sono senza spada Non ci andrò mai Caverna Io sono sicuro Infinita Oddio che palle No ti prego Per fortuna il diamante L'ho io Sì infatti ho fatto bene A far dartelo il diamante Se lo tienitelo tu Guarda lo nascondo Faccio come I cattivi No non lo nascondere Ci dobbiamo fare Il jukebox Lo faccio Subito Instant Posso? Certo Lo devi fare Come sprecare il diamante Sto lottando con uno scheletro Allora Allora La cosa interessante C'è tipo Free 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 Sì C'è tipo una barriera qua Posso abbatterla Una barriera? Sì ci sono tipo due log messi a caso Fatti schifosi Ah io quella cosa che ho fatto io Carina mi sembra Mi piaceva Ah ok No rompila scherzo Allora Ok ho finito anche le torce Va bene Che cosa è successo? Che cosa abbiamo fatto Di tanto eclatante Io ho fatto questo Io ho preso 5 stack di legno Ho usato una quantità 19 che ho a casa Cioè 0 praticamente Sai che vuol dire 0 Comunque è carino Tutto il coso che ho fatto Mi piace Qui c'è un po' di Bella scala che hai fatto Strano Che cosa? Hai fatto una bella scala Per una volta È carina Ti piace? Sì C'è una torcia bugata A spirale C'è una torcia che non fa luce Una torcia Toglila e rimettila Sto prendendo un po' di carbone Questo si ne ho trovato parecchio Sono anche quasi a 8 livelli Che non è male Mi piace Io non ho un piccone free Io non ho mai fatto un piccone Non hai ancora mai fatto un piccone? No Ah lo volete sapere? Che cosa abbiamo fatto con il diamante? Un bel jukebox Eccolo qua Un grande jukebox Indovinate dov'è adesso? Non lo so Ho piazzato in un punto a caso Nella mappa Oh il che è molto molto interessante Hai un pezzo di cobblestone? Quanti ne vuoi? Io ho quelli che mi hai dato a te e basta Vai 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 Teni avvomitati un po' addosso Perfetto Prendiamo carbone Ci rivediamo appena siamo operativi Con la farm di villager È passata di nuovo tantissimo tempo Davvero davvero tanto E qui la farm Stavolta sono stato io a minare Sì stavolta ho minato bis E devo dire che stiamo messi abbastanza bene Come roba Nel senso abbiamo tante tante cose Mi sono fatto tutti gli utensi Adesso stavo preparando Che mi accingeva a preparare la farm di villager L'idea era di utilizzare un campo già esistente Penso di utilizzare questo Quello che già c'è Ma scusate Io ho un'idea Facciamo quella più compatta Funziona uguale Però è più compatta Sì? La farm di villager compatta? Sì sì C'è un tutorial L'ho visto Ah che io non conosco Nel senso non è che la conosco granché bene Io facevo la mia solita farmina Quella gigante Che funziona per metà No no cazzo Skeletro skeletro aiuto 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 Vengo io in tuo soccorso Allora tu fai la farm Io che mi faccio? Niente Cazzo Continuo a minare Io continuo a minare Non abbiamo trovato diamanti Cioè almeno io non ne ho trovati No io no Zero Cioè vi rendete conto? Cazzo zero diamanti Scusa Questo seed che ci avete dato Conteneva diamanti Punto di domanda No sarebbe bellissimo Perché l'avete dato anche il primo aprile Sarebbe un troll fantastico Sì però insomma Un po' mi fate venire di sospetti Sì però davvero abbiamo minato davvero un sacco E Se vuoi mostrarlo? Perché io ho fatto i Non ho fatto i soliti cunicoli due salti due Perché così per esagerare Ho proprio scavato Sì l'idea non so Abbiamo utilizzato anche diversi picconi di ferro Abbiamo sprecato un po' di ferro In effetti per far sta roba Però era simpatico Divertente Oh salto le scale Salto le scale Cazzo Sì 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 Sto scendendo Ok Sto facendo una specie di parkour Cioè siete pronti a vedere quello che ci siamo fatti Aspetta Tadà Ah c'è della redstone Che tu non hai preso Non ho il piccone ferro io Ho sempre avuto quello Questo guarda Quale? Ah è carino bello Te l'ho ridroppato Tanto è totalmente Non mi serve Totalmente inutile Adesso mi riprendo tutta la redstone E poi vabbè facciamo sta farm E poi vediamo di Sì vediamo di completarla Più che altro sta farm Mona di villager Che come inizio non è male Poi ci dobbiamo fare subito A caccia di materiali Per fare l'iron titan Non serve tanto alla fine Serve legno Blocchi da costruzioni Cosa? Blocchi da costruzioni Abbiamo una quantità di cobblestone allucinante Eh non esagerata Tipo una doppia cassa Eh quindi Cioè vabbè ok Per l'iron titan Penso basti no? Non lo so Poi andiamo a risostituire tutti i blocchi Con i blocchi di ferro Ah Tu sei fuori La vuoi fare due volte praticamente Ah qua sopra c'era della lava Ho tappato Oppure con degli stone brick La possiamo fare per esempio Eh forse è più interessante Cazzo ma c'è della lava qua Oddio 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 E quindi Biss non mi sente, lo sto andando a prendere male, perché abbiamo, stiamo costruendo un sacco, vi faccio vedere i progress che abbiamo fatto. Lì perché c'è una gallina io non ho quale idea, abbiamo già sprecato un sacco di ferro che io avevo faticosamente raccolto, no, abbiamo raccolto in due, va bene. Guardate, lui se ne sta andando a raccogliere sabbia perché devi finire la parte di vetro. Cazzo mi ha visto? No, 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 ok, non l'ho preso, va bene. Fotte sega. E niente, lo volevo massacrare male di botte, aspettate. Biss? Eh. E mi hai visto pesantemente che ti volevo massacrare, vero? Sì. Ah, è vero, non funziona più il tasto destro, oddio, che cosa brutta. Ma noi come facciamo a fare una cosa del genere? Allora, qua noi ci mettiamo un villager qualunque, questo villager praticamente è il farmer all'interno, darà cibo. Ah, tipo farm di pane. Esatto. Ah, quello sì, no, no, Biss, 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 sì va bene, ok, qui c'è il gettatore, il dropper. Ma tu ci serve del quarzo, non possiamo fare una roba del genere, vero? Per cosa? E come facciamo a fare, a dirgli, ok, quando entra un item tu droppalo? Ah, per ora metto un clock infinito, dopo quando avremo le tramogge faremo smistamento delle barbabietole, infatti le barbabietole in eccesso vanno giù, i semi, cioè, i semi di barbabietole vanno giù. E quindi appena avremo il comparatore lo metteremo in eccesso. Ah, ok, ok, ok. Eh, no, infatti non pensavo. Perché c'è un gallo qui dentro? Eh, uccidere. No, 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 è carino, fa le uova, le prendiamo, ci dobbiamo fare anche la farm di cibo. Mi sa che abbiamo già un bel po' di uova. Bello, carino, mi piace, mi piace, mi piace. Sto vetro ci sta bene qua. Poi... Eh, ho dovuto fare un po' di fornace, non è che ti scoccio. No, 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 per carità. Abbiamo fatto... Qui raccolgo il grano perché è maturato. Ma stai registrando? Sì, sì. Ah, ok, scusate. Raccolgo il grano, patate e tutto il resto. E questa era la farm. Ma penso che davvero per questo video possa essere tutto. Abbiamo fatto davvero un sacco di roba. Cioè, per essere il primo episodio abbiamo già fatto un paio di farm, è allucinante. La farm di cose. Adesso metto dentro l'unico farmer che c'è in tutta l'isola, quindi come facciamo a spostarlo? Oh, questo è un bel problema. Rotarie non ne abbiamo. Spinta, bisogna spingerlo. Vabbè, ci mettiamo giù a spingere, lo spingiamo, ci vorrà un po' di tempo. E poi noi dobbiamo mettere un altro qualunque di villager, lo sai vero? Sì, dall'altro. Ma io le barbabietole a me non piacciono. Infatti le usiamo per quella farm e basta. E basta, ok, mi rimetto, mi pianto le patate io. Sono già ricresciute le barbabietole. No, non lo so. Stavo... Ci avevo fatto strage un attimo fa. Stavo piantando le patate io. Sì, erano ricresciute, ho riuscito un sacco di roba. Ho piantato sì, patate e roba varie. Le barbabietole fotte seca. Va bene, comunque per questo video è tutto. Mi raccomando, giù di mi piace. Voglio una quantità incredibile di mi piace. Per questo nuovo inizio sarà davvero qualcosa di fantastico. Vieni a casa? Cosa? Vieni qua sopra. Sì, mi raccomando, iscrivetevi al canale se avete già fatto. Condividete il video su Facebook, farmi piacere a nuove persone. Passate in tutti i link in descrizione. E noi siamo come al solito. A un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.